Radio Firenze Viola Tweet Viola Tweet Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tiposo Viola Ancora un caloroso buongiorno a tutti i nostri ascoltatori Il nuovo centrocampista Viola Norgard ha parlato ad un sito danese della nuova avventura gigliata La prima settimana è stata un po' frenetica, ma adesso comincia a sentire che è stata la scelta giusta Penso di essere perfetto per questa Fiorentina L'ex Brondby ha infine affermato Non mi sono mai sentito forte come in questo momento Buone notizie arrivano anche dalla Germania Con l'Entrack Francoforte vicino a chiudere il passaggio di Ante Rebic alla United Per la Fiorentina pronto una percentuale di circa 18 milioni di euro Soldi decisivi per la svolta Marco Piazza Capitolo ex, la Lazio comunica ad aver acquistato a titolo definitivo le prestazioni sportive di Milan Badel Per il centrocampista croato ex Viola un contratto quadriennale Per Fiorentina1.com Gianmarco Fusi Viola Tweet Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola